Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sulla progettazione degli induttori di potenza con la parte relativa al fenomeno dell'effetto pelle. Quindi l'obiettivo è quello di riuscire a ricavare un'equazione attraverso cui possiamo prevedere e quantificare questo fenomeno. Partiamo però dalle basi, ovvero cerchiamo di capire che cos'è questo fenomeno dell'effetto pelle. Molto semplicemente quello che si può osservare è che quando un conduttore, quindi un filo di rame, viene attraversato da una corrente continua, quello che si può vedere è che la distribuzione della corrente, quindi la densità per unità di aria è costante, quindi in ogni punto del conduttore otterremo la stessa densità di corrente. Quando invece il filo viene attraversato da una corrente variabile nel tempo, quello che si osserva è che la densità di corrente è maggiore all'esterno del conduttore e man mano che si procede verso il centro va diminuendo fino a raggiungere un raggio critico dove in pratica non c'è più passaggio di corrente. Quindi per fare un esempio pratico, quando un filo viene attraversato da una corrente variabile nell'ordine dei 100 kHz, quello che succede è che praticamente questa corrente scorre solo all'esterno del conduttore, mentre il suo interno è come se non ci fosse. Ma perché succede questa cosa? Cerchiamo di capirlo meglio utilizzando come supporto questa immagine, quindi le linee nere rappresentano il bordo della nostra sezione di filo che stiamo andando a considerare, mentre queste frecce rosse indicano la corrente che viene in questo momento supposta di densità costante all'interno del conduttore. Che cos'è che succede? Come sappiamo quando un filo viene attraversato da una corrente va a generare un campo magnetico circolare tutto intorno a se stesso, di intensità via via crescente man mano che si ci avvicina alla circonverenza esterna del filo. Ed è perfettamente descritto dalla legge di Biot-Zavart. Ora, quando si studia quell'equazione di solito si ci ferma all'esaminare quello che succede all'esterno del filo e non quello che succede all'interno. Infatti anche all'interno del conduttore è presente un campo magnetico di forma circolare ma che ha un comportamento inverso rispetto a quello che si trova all'esterno del conduttore. Infatti il campo magnetico esterno aumenta di intensità man mano che si ci avvicina all'estremità, quindi al diametro esterno del conduttore. Mentre il campo magnetico interno diminuisce di intensità man mano che si ci avvicina al centro del conduttore. Ed entrambi i cambi magnetici hanno il loro massimo in prossimità del diametro esterno. Ora, supponiamo di prendere una sezione di flusso di questo conduttore, quindi prendiamo questa circonverenza interna dove all'interno passerà soltanto una parte della corrente totale che abbiamo detto essere di densità costante in questo momento all'interno del conduttore. E che cosa succede? Succede che la corrente che scorre all'interno di questo tubo di flusso andrà a generare un campo magnetico circolare all'interno del conduttore. Ora, qual è il problema? Mentre quando si genera il campo magnetico circolare all'esterno del conduttore, questo si accoppia da teoria o col vuoto o con l'aria, il campo magnetico generato all'interno del conduttore si accoppia con il materiale del conduttore stesso. E quindi stiamo parlando di rame. E cosa succede quando un campo magnetico variabile si accoppia con un conduttore? Genera delle correnti che vengono chiamate eddy current. Ora, rifacendoci al verso delle frecce che vengono riportate in questa immagine, abbiamo che un verso di corrente in questa direzione genera un campo magnetico circolare in senso anti-orario. E questo campo magnetico circolare in senso anti-orario genera nel conduttore delle eddy current anch'esse di verso anti-orario. E quindi adesso è facile capire quello che sta succedendo, ovvero a causa della generazione di queste correnti abbiamo che il verso di questa corrente si sottrae con la corrente che sta scorrendo nel conduttore verso l'interno e si va a sommare con la corrente che sta scorrendo nel conduttore verso l'esterno. E quindi, a condi fatti, otteniamo che la densità di corrente all'interno del conduttore diminuisce mentre la densità di corrente all'esterno del conduttore aumenta. E questo fenomeno peggiora sempre di più all'aumentare della frequenza della corrente variabile all'interno del conduttore, tant'è che è arrivato a un certo punto al centro del conduttore inizierà più a non passare corrente e man mano che si continua a salire in frequenza questo raggio di conduttore vuoto continua ad aumentare fino ad arrivare a frequenze davvero molto molto alte dove si parla che lo strato conduttore è praticamente solo l'esterno. Ora capite le ragioni teoriche di questo fenomeno cerchiamo di quantificarlo. Quindi ci andiamo a calcolare la profondità della pelle che viene indicata con la lettera delta che rappresenta appunto quella profondità oltre il quale nel conduttore non si ha più passaggio di corrente come viene rappresentato in questa figura e si calcola banalmente andando a svolgere questa radice quadrata quindi una volta noto il materiale del conduttore per sapere la profondità di pelle a una determinata frequenza basterà cambiare il valore della frequenza in questa formula e otterremo appunto la profondità in metri. E una volta calcolato questo valore di profondità che cosa ce ne facciamo? Andiamo quindi a vedere come riuscire a ricavare il valore di resistenza in corrente alternata. Riscrivendo la formula classica per il calcolo della resistenza per unità di lunghezza abbiamo che questa è pari a 1 diviso sigma per 1 diviso l'aria del conduttore metallico. Ora però che cosa succede? Abbiamo visto che a causa dell'effetto pelle l'aria del conduttore non sarà più quella fisica ma dipenderà dalla frequenza a cui si sta lavorando. Quindi per poter ricavare il valore della resistenza in corrente alternata non dobbiamo andare a dividere per l'aria fisica del conduttore ma per la sua aria effettiva. E come si calcola? Banalmente andando a sottrarre all'aria fisica del conduttore l'aria che viene esclusa dal passaggio di corrente a causa dell'effetto pelle. Ora per rendersi conto della variazione di questa resistenza vi faccio vedere un grafico su cui è riportato questo comportamento. Quindi in ascisse abbiamo la frequenza normalizzata quindi la frequenza di lavoro diviso la frequenza di taglio mentre in ordinate abbiamo la resistenza normalizzata quindi la resistenza in questo caso che noi abbiamo chiamato a c diviso la resistenza di c. Per essere chiari la frequenza di taglio è definita come quella frequenza in cui la profondità di pelle eguaglia il valore del raggio del conduttore. Quindi come possiamo vedere quando la profondità di pelle è maggiore del raggio del conduttore abbiamo che la resistenza a c è praticamente uguale alla resistenza dc del conduttore mentre quando la profondità di pelle è minore del raggio del conduttore abbiamo che la resistenza a c inizia ad aumentare rispetto alla resistenza dc del conduttore e per renderci conto del fenomeno possiamo leggere sul grafico che quando la frequenza è 100 volte superiore alla frequenza di taglio abbiamo che la resistenza a c del conduttore supera di 10 volte la sua resistenza dc quindi in pratica la resistenza a c diventa praticamente dominante. Ora quindi a noi nella pratica che cos'è che ci serve per dimensionare correttamente il nostro induttore? Abbiamo bisogno solo di queste due formule quindi conoscendo la frequenza di lavoro principale del nostro induttore ci andiamo a calcolare la profondità di pelle e poi ci andiamo a ricavare la resistenza a c del conduttore con cui abbiamo scelto di avvolgere l'induttore. Molto bene quindi questo è tutto quello che ci serve sapere per quando riguarda il calcolo delle perdite causate dall'effetto pelle. Per il momento quindi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!